Ciao, oggi ho deciso di iniziare una nuova rubrica dove vi leggerò il piccolo principe con un whispering quasi notable sounds e il libro è stato scritto da Duan de Saint-Exupéry e le illustrazioni sono dell'autore stesso Siamo avanti dalla prevenzione del modello rettamente all'inizio della storia Allora, iniziamo Un tempo lontano, quando avevo sei anni in un libro sulle foresti primordiali intitolato Storie vissute della natura vide un magnifico disegno rappresentava un serpente buo nell'atto di chiudere un animale Eccovi la coppia del disegno C'era scritto I po' incogliano la loro preda tutta in terra senza masticarla Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede Meditai a lungo sull'avventura della giungla E a mia volta riuscì a tracciare il mio primo disegno Il mio disegno numero uno era così Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi domandando se il disegno li spaventava Ma mi rispose Spaventare Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello Il mio disegno Non era il disegno di un cappello Era il disegno di un boa Che dice arrivò un elefante Affinché vedessero chiaramente che cos'era Disegnai l'interno del boa Bisogna sempre spiegargli le cose ai grandi Il mio disegno numero due Si presentava così Questa volta Mi rispose ero di lasciare da parte in boa Sia di fuori che di dentro E di applicarmi invece alla geografia Alla storia Alla aritmetica Alla grammatica Fu così Che a sei anni Io rinuncei a quella che avrebbe potuto essere La mia gloriosa carriera di pittore Il fallimento del mio disegno numero uno E del mio disegno numero due Mi aveva disanimato I grandi non capiscono mai niente da soli E i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta Allora sceltisi un'altra professione E imparai a pilotare gli aeroplani Ho volato un po' sopra tutto il mondo E veramente la geografia mi è stata molto utile A colpo d'occhio Posso distinguere la Cina dall'Arizona E se uno si perde nella notte Questa sapienza è di grande aiuto Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita Ho vissuto il lungo in mezze grandi Mi ho conosciuto intimamente Mi ho osservati proprio da vicino L'opinione che avevo di loro non è molto migliorata Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta Tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno Che ho sempre conservato Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva Ma chi Chiunque fosse un uomo Mi rispondeva È un cappello E allora non parlavo di boa Di foresti primordiali Di stelle Mi abbassavo al suo livello Gli parlavo di bridge Di golf Di politica Di gravante E lui era tutto soddisfatto Di aver incontrato un uomo tanto sensibile Così ho trascorso la mia vita solo Senza nessuno con cui poter parlare Fino a sei anni fa Quanto è più incredibile incidente con il mio plano Nel deserto del Sahara Qualche cosa si è risultato nel motore E siccome non avevo con me Né un meccanico Né di passeggeri Mi agizzi da sola a cercare di riparare il guasto Era una questione di vita o di morte Perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana La prima notte dormi sulla sabbia A mille miglia da qualsiasi abitazione umana Ero più isolato che un marinaio abbandonato In mezzo all'oceano Solo alzandero dopo un avoraggio Potete immaginare il mio stupore Di essere svegliato all'arpa da una strana vocetta Mi disegni per favore Una pecora Cosa? Disegnami una pecora? Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine Mi strofinai gli occhi più volte Guardandomi attentamente intorno E vidi una straordinaria versioncina Che mi stava esaminando Con grande serietà Qui potete vedere il miglior ritratto Che riuscì a fare di lui Anche tardi Ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello La colpa non è mia Però Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi Quando avevo sei anni Alla mia carriera di pittore Non ho mai imparato a disegnare altro Che serpenti boa Dal di fuori O serpenti boa Dal di dentro Ora guardavo fisso A mille miglia da qualsiasi esepitazione umano Quando finalmente potei parlare Di domandare Ma che cosa fai qui? Con tutta risposta Egli ripete lentamente Come si trattasse di cosa di molta importanza Per piacere Per piacere Disegnami una pecora Quando mi stare così sovraccarico Non si osa di subitire Per assurdo che mi sembrasse A mille miglia da ogni abitazione umana In pericolo di morte Tirai fuori dalla tasca Un foglietto di carta E la pena stilografica Ma poi ricordai che i miei studi Si erano concentrati sulla geografia Sulla storia Sulla aritmetica E sulla grammatica E gli dissi Un po' di malumore Che non sapevo disegnare Mi rispose Non importa Disegnami una pecora Non avevo mai disegnato una pecora E allora fece per lui Uno di quei due disegni Che avevo fatto tante volte Quello del boa dal di fuori Io fui sorpreso Di sentirmi dire No, no, no Non voglio l'elefante dentro il boa Il boa è molto pericoloso E l'elefante è molto incomprante Dove vivo io È tutto molto più piccolo Ho bisogno di una pecora Disegnami una pecora Fece il disegno Lo guardò attentamente E poi disse No, questa pecora è malaticcia Fammene un'altra No, fece un altro disegno Il mio amico mi sorrisse gentilmente Di con indulgenza Lo puoi vedere da te? Disse Che questa non è una pecora È una riete Alle corna Riveci il disegno una terza volta Ma fu subito rifiutato Come tra i precedenti Questa è troppo vecchia Voglio una pecora Una pecora che possa vivere a lungo Questa volta la mia pazienza era esaurita Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore Buttai giù un quarto disegno E tirai fuori questa spiegazione Questa è soltanto la sua qualsetta La pecora che volevi sta dentro Fu molto sorpreso di vedere il viso Del mio piccolo giudice illuminarsi Questo è proprio quello che volevo Pensi che questa pecora Dovrà avere una grande quantità d'erba Perché? Perché dove vivo io Tutto è molto piccolo Ci sarà certamente abbastanza erba per lei È molto piccola la pecora che ti ho data Si chinosso il disegno Non così piccola che Oh, guarda Si è messa a dormire E fu così Che feci la conoscenza Del piccolo principe Spero che questa lettura possa avervi rilassato In tal caso potete cliccare mi piace Iscrivervi al canale E commentare se volete che io continui Con questa rubrica Vi mando un bacio E vi auguro un buon riposo